Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia. Bentornati alla nostra serie sui Balcani, la serie con cui abbiamo raccontato due secoli di storia balcanica, dall'inizio dell'Ottocento fino, grosso modo, ai giorni nostri e che sta terminando, purtroppo, nel peggiore dei modi. Cioè raccontando quella lunga serie di guerre che hanno stravolto la geografia balcanica, nate dalla dissoluzione della ex Jugoslavia e che hanno visto popoli che fino a quel momento erano riuniti sotto una stessa bandiera combattersi, uccidersi, mazzacrarsi, violentarsi l'un l'altro in una lunga serie di guerre incastrate fra di loro. Nella scorsa puntata abbiamo raccontato dell'inizio della guerra in Bosnia, quella che, come ho già detto la settimana scorsa, per tutti coloro che sono nati negli anni Ottanta è probabilmente il primo vero contatto con una guerra, quella guerra di cui si parlava nei telegiornali, che sembrava essere allo stesso tempo così lontana da noi, almeno mentalmente, eppure era così vicina appena al di là dell'Adriatico. È una guerra che, come abbiamo visto nella scorsa puntata, è nata in uno stato che già di suo era spaccato tra diverse etnie, che in qualche modo fino a quel momento erano sopravvissute insieme, avevano coabitato nello stesso spazio e che improvvisamente si trovarono a combattersi. Il perfetto esempio è di quelle che sono state proprio le guerre jugoslave. Questa volta narreremo della guerra in sé. Parleremo dal 1993 fino al 1995, quando terminerà, e cercheremo di capire che cosa è realmente successo in quella terra così devastata. Ovviamente senza parlare di tutte le possibili battaglie, possibili scontri, possibili massacri, in quelli se volete potete approfondirveli voi, cercando piuttosto di dare un bel quadro generale. Quindi, come sempre, se non volete perdervi le prossime puntate, cliccate sulla campanella e iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati quando esce un nuovo video, sigla, e andiamo avanti a raccontare la guerra in Bosnia. La premessa, come sempre in questa serie, è che se non vi siete visti le puntate precedenti potrebbe essere un po' complesso capire questa. Quindi vi conviene almeno recuperare le ultime puntate sulla Jugoslavia perché, come vedrete, questa puntata metterà un po' insieme tutti i tasselli per raccontare gli ultimi tre anni di guerra in Bosnia. Partiamo dall'inizio. Come ho raccontato nella scorsa puntata, la Bosnia in realtà era uno stato diviso fra tre etnie. I bosniacchi musulmani, che ne erano la maggioranza, circa il 44%, i serbi ortodossi e i croati cattolici, che delle tre etnie erano quella minoritaria. In realtà lo scontro, nonostante queste tre etnie avessero creato una serie di forme di potere sostanzialmente autonome, la Repubblica Serbska, quindi la Repubblica Serba, che riuniva proprio i territori serbi, la Repubblica dell'Herzog Bosnia, che riuniva invece i territori creati, e la Bosnia-Herzegovina, vera e propria, che invece rimase ad appannaggio dei bosniacchi, in realtà la lotta, almeno inizialmente, non fu un vero e proprio tutti contro tutti. O meglio, a livello locale, fin dall'inizio, gli scontri videro le varie etnie polarizzarsi fortemente l'una contro l'altra, ma almeno a livello decisionale, quindi diciamo tra i capi delle varie formazioni, almeno inizialmente si trovavamo in una situazione di due contro uno, per così dire, con i bosniacchi e i croati, che si erano alleati, avevano anche creato un vero e proprio esercito, che sulla carta avrebbe dovuto riunire le due etnie per combattere contro i serbi. Perché questa alleanza? Beh, perché inizialmente i serbi avevano avuto dichiaratamente la via più facile durante la guerra, avevano ottenuto le armi dall'esercito jugoslavo, che prima di ritirarsi dalla Bosnia le aveva lasciate alle mani della Repubblica serbsca, anzi, molto spesso erano rimasti gli stessi soldati e gli stessi ufficiali, tra cui il famoso Ratko Mladic che era diventato, o famigerato come direbbe qualcuno, che era diventato anche direttamente comandante delle truppe della Repubblica serba di Bosnia, mentre dall'altra parte i bosniaci e i croati si erano trovati fin dall'inizio in difficoltà, perché una volta scoppiata la guerra in Croazia, quindi l'anno prima rispetto alla guerra in Bosnia, gli organismi internazionali, a cominciare dall'ONU, avevano annunciato un blocco della vendita di armi in Jugoslavia, un vero e proprio embargo sulla Jugoslavia che aveva tutti gli effetti messi in grossa difficoltà a chi quelle armi inizialmente non ce l'aveva, cioè appunto i bosniacchi, che le riceveranno per vie molto traverse, e i croati che invece le stavano lentamente ricevendo dalla vicina Repubblica di Croazia, un tempo che però ovviamente giocava a vantaggio dei serbi. Il risultato, come abbiamo raccontato nella scorsa puntata, è che nel 1992, il primo anno di guerra, i serbi avanzeranno nei territori in cui la maggioranza della popolazione era di altre etnie, estenderanno il controllo su varie zone, uniranno le loro enclavi a tutti gli effetti schiacciando i bosniaci e i croati verso sud-oveste, con il risultato, e come vedete qua dalla cartina, progressivamente avevano riuscito a estendere il loro controllo su quasi, quasi due terzi dell'intera Bosnia. Come dicevo, inizialmente bosniacchi e croati avevano combattuto insieme, ma questa alleanza a livello decisionale non era sempre stata accettata anche a livello locale, dove soprattutto le milizie, più che gli eserciti veri e propri da una parte e dall'altra, soprattutto quando si trovavano a dover combattere in territori la cui etnia era abbastanza mista tra croati e bosniacchi, molto spesso iniziarono ad entrare in scontro e già alla fine dell'estate del 1992 ci furono i primi scontri tra croati e bosniacchi e le prime incomprensioni. A peggiorare ulteriormente questa situazione saranno proprio le campagne serbe, che nell'autunno, inverno del 1992 e inizio del 1993, con le loro campagne dimostreranno come la cooperazione tra gli altri due eserciti fosse in realtà fallimentare. Come tutta una serie di gelosie e di scontri locali avessero reso a tutti gli effetti gli eserciti bosniacchi e croati impossibilitati a fermare i serbi nella loro avanzata. Ovviamente le due parti avevano iniziato da accusare l'una l'altra di non voler cooperare, di preferire che i serbi conquistassero altro territorio piuttosto che aiutare a difenderlo e questo non aveva fatto che aumentare le incomprensioni. Per cercare di risolvere questa questione, all'inizio del 1993 Tudjman, presidente della Croazia, che a tutti gli effetti fungeva da protettore della Repubblica di Herzog Bosnia e Izbegovic, Alia Izbegovic, che era il presidente bosniacco della Bosnia-Herzegovina, si erano incontrati. Avevano deciso di porre ufficialmente fino a queste divergenze e creare un vero e proprio comando unificato tra i due eserciti. Questo tentativo però era fallito fin dall'inizio e a peggiorare ulteriormente, come se non ne bastasse ancora la situazione, ci si misero anche le Nazioni Unite, che proposero proprio tra la fine del 1992 e l'inizio del 1993 l'ennesimo piano di divisione della Bosnia, che prevedeva un unico Stato al cui interno sarebbero però sorte delle entità autonome, a seconda semplicemente di chi avesse la maggioranza etnica in certi villaggi, un piano che sarà rifiutato praticamente da tutte le etnie, con i serbi che tra tutti erano forse quelli più convinti della cosa, anche perché veniva assegnato a loro un grande territorio, ma che nonostante fosse stato rifiutato e quindi non fosse entrato in realtà in azione, a tutti gli effetti sarà utilizzato dall'esercito sul campo per giustificare espulsioni, migrazioni forzate e violenze anche appunto nei villaggi misti croati e bosniaci. All'inizio del 1993, nonostante il tentativo di accordo tra Izevegovic e Tudjman, i due eserciti iniziarono ufficialmente a scontrarsi. È difficile dire chi dei due iniziò a combattere, ma sicuramente uno dei simboli, se non il vero e proprio simbolo di questa guerra, che viene chiamata proprio la guerra tra croati e bosniacchi, quasi come fosse una guerra all'interno delle, potremmo dire quasi guerre bosniache, il simbolo di questo scontro sarà la città di Mostar, che vedete qui sulla cartina. Mostar era una città multietnica quasi per eccellenza, una città di circa 100.000 abitanti, di cui 44.000 erano bosniacchi e 44.000 erano croati. Una città che da tantissimo tempo aveva le sue componenti multietniche, che si erano praticamente divise in due zone, due zone di città che fino a quel momento avevano sempre cooperato l'uno con l'altro, rendendolo a tutti gli effetti una città simbolo di questa cooperazione tra bosniacchi e croati. I primi a impossessarsi della città erano stati i propri croati, che l'avevano occupata, avevano scacciato i bosniacchi ed erano riusciti a prenderne completamente il controllo, anche se i bosniacchi avevano mantenuto il controllo del territorio intorno. A Mostar di armi ce n'erano e come, anche perché proprio Mostar era stata, se vi ricordate, l'abbiamo raccontato nella scorsa puntata, all'inizio della guerra, uno dei primi obiettivi da parte delle forze armate jugoslave, che avevano cercato di prendere controllo della città e che una volta che si erano ritirati, avevano lasciato lì delle armi che erano state ovviamente razziate da entrambe le parti in causa. I bosniacchi non ci metteranno molto ad organizzare una risposta. In realtà nel 1993 i bosniacchi organizzarono una lunga serie di offensive che progressivamente riconquistò una buona parte del territorio croato. Si stima che quasi un 20% del territorio, 20-30% del territorio che era controllato dai croati dalla fine del 1992 sarà riconquistato nel corso del 1993 dai bosniaci e tra questa parte di territorio ci sarà anche una grossa parte della città di Mostar, che però fino alla fine del conflitto rimarrà divisa in due parti. Il risultato fu che la città sarà completamente devastata. La sua popolazione è costretta a fuggire verso la zona bosniaca o verso la zona croata e un continuo fuoco di artiglieria da una parte e dall'altra la devasterà. Il simbolo di questa distruzione sarà il crollo nel novembre del 1993 del cosiddetto Stare Mosto, e cioè il ponte vecchio di Mostar. L'unico ponte fino a quel momento che era rimasto sul fiume che divide a metà la città e che si trovava nella zona controllata dai bosniaci. Si dice che fosse una zona di confine, ma non è vero, si trovava nella zona controllata dai bosniaci che peraltro lo utilizzavano e che sarà distrutto, nonostante facesse parte del patrimonio artistico della città, sarà distrutto dal fuoco di artiglieria dei croati. Quel ponte, che sarà poi ricostruito anni dopo e che un po' è il simbolo della rinascita della Bosnia, sarà ricostruito, pensate, andando proprio a cercare sotto nel fiume le pietre e riutilizzandone il più possibile, quel ponte, la sua distruzione, non è considerata crimine di guerra, perché i tribunali internazionali hanno valutato che in effetti il ponte avesse una valenza militare, ma da allora si è molto ridiscusso su cosa sia un crimine di guerra quando va ad inficiare sul patrimonio artistico di una nazione. Ma ve lo lascio come curiosità, il ponte di Mostar, il ponte vecchio di Mostar, è sicuramente uno dei simboli di questa guerra. Ad ogni modo, nel 1993, nonostante la distruzione di quel ponte, come vi dicevo, i bosniaci passarono, i bosniacchi passarono al contrattacco e ben presto i croati chiesero di poter tornare a discutere di una pace. Tugman, che fino a quel momento, in funzione antiserva, aveva sempre cercato di porre fine in qualche modo a questa guerra, pur appoggiando ovviamente i croati in Bosnia, alla fine decise di trattare. E grazie alla mediazione delle Nazioni Unite, grazie alla mediazione degli statunitensi, il 18 marzo del 1994, le due fazioni, quindi la fazione croata e la fazione bosniacca, giunsero ad un accordo, che sarà firmato a Washington, proprio con Tugman e Izevegovic, come rappresentanti delle due etnie, due etnie che accettarono di porre fine alla guerra, accettarono di rientrare all'interno dello stesso Stato, quindi la Repubblica di Herzog Bosnia a tutti gli effetti scomparve, venne riassorbita all'interno della Bosnia-Herzegovina, con al contrario i bosniacchi che accettarono che i territori abitati dai croati, quelli che ancora erano sotto il loro controllo, venissero divisi in una decina di province semi-autonome all'interno comunque della Bosnia-Herzegovina, in questo modo mantenendo comunque una certa autonomia, un'autonomia su cui avrebbe vigilato la Croazia. In realtà alcuni dicono che questo accordo fu molto spinto da Tugman, quindi Presidente della Croazia, perché in cambio della firma di questo accordo, e quindi in qualche modo iniziare a porre fine alla guerra in Bosnia, la Croazia ebbe tutta una serie di aiuti da parte degli stati esteri, a cominciare ovviamente da quelli che facevano parte della Nato, che forniranno armi, forniranno supporto e soprattutto prometteranno alla Croazia un futuro ingresso proprio nella Nato, in questo modo cercando di ufficialmente staccare e anche schierarsi in questa guerra proprio dalla parte croata. Sono voci, secondo molti analisti abbastanza fondate, ad ogni modo in qualche modo questa prima fase della guerra bosniaca in questo modo si riuscì a chiudere. In realtà però la guerra in Bosnia si era tutto fuorché conclusa, anche perché anche nel 1993 approfittando del maggiore impegno dei bosniaci e dei bosniacchi verso i croati, i serbi avevano continuato ad avanzare fino a consolidare le loro conquiste, come vi ho fatto vedere prima nella mappa. Il territorio bosniaco in realtà si era progressivamente sfilacciato in tutta una serie di enclavi, molto spesso delle città che si trovavano all'interno del territorio serbo, con i serbi che ne conquistavano i territori intorno ma che poi non avevano le forze per riuscire a strappare le città alle forze dell'esercito regolare bosniaco o ai miliziani bosniaci che proprio lì erano andati a stazionare. I serbi in effetti iniziavano ad avere grossi problemi di armamento, anche perché come vi ho raccontato nella scorsa puntata, grazie soprattutto alle spinte degli Stati Uniti che avrebbe voluto un intervento decisamente più diretto nella guerra, ma era stato frenato in questo dagli alleati europei che temevano per le loro truppe in campo insieme all'ONU, ebbene fin dal fine del 1992 si era andata a creare una vera e propria no-fly zone con cui le forze della Nato, gli aerei della Nato, avevano semplicemente bloccato il volo di qualunque aereo, in questo modo togliendo un grosso vantaggio proprio alle forze serbe. A questo punto i serbi non riuscendo a conquistare quelle enclavi, che peraltro molto spesso iniziarono a essere protette dalle forze delle Nazioni Unite che estesero la loro protezione a tutta una serie di enclavi sicure, che poi particolarmente sicure non erano ma questa era la denominazione, i serbi non riuscendo a conquistarle iniziarono a metterle, a cercare di prenderle per fame, assediandole, bombardandole continuamente, impedendo ai cittadini di uscire e sperando in qualche modo di poterli appunto prendere per fame. Dato che la situazione evidentemente non era abbastanza complessa, a complicare ulteriormente le cose ci si metteva anche una repubblica autonomista bosniacca, la cosiddetta Repubblica Bosniaca dell'Ovest, o Repubblica dell'Ovest Bosnia, scegliete voi la definizione che preferite, che era un piccolo territorio, lo vedete qua sulla cartina a fianco, che si trovava peraltro vicino ad un'altra inclave, questa volta fedele al governo di Sarajevo, incastrata fra i territori della Repubblica Serbska, quindi dei serbi di Bosnia e della Craina, quindi dei serbi di Croazia, vedete che caos che c'è assolutamente in questa cartina, bene, quella Repubblica dei bosniaci occidentali dell'Ovest Bosnia, quella Repubblica era formalmente autonomista ed era alleata proprio con i serbi contro il governo centrale. A governarla era Fikret Abdic, che aveva partecipato alle elezioni che avevano portato i Zebegovic al potere, era uno degli uomini più ricchi di Bosnia e aveva creato questa specie di piccolo dominio personale intorno alla sua fabbrica, l'Agromet, che era la principale, uno dei principali produttori di cibo in Bosnia ai tempi della Jugoslavia e una delle fabbriche più ricche proprio della Bosnia intera. Attorno a questa fabbrica, sfruttando ovviamente il suo denaro e sfruttando anche la fedeltà di chi in quella fabbrica lavorava, aveva creato questa piccola enclave che nel 1994 i bosniaci avevano riconquistato con la cosiddetta Operazione Tigre, una riconquista che però era durata pochissimo e che era stata poi riportata alla situazione precedente dall'Operazione Eragno portata avanti dalle forze serbe. Inutile dire che ognuna di queste operazioni si era poi trasformata in un bagno di sangue per le popolazioni locali, che ogni volta che venivano conquistate venivano sottoposte a violenze, stupri, saccheggi, uccisioni, oppure costrette a spostarsi in una direzione o nell'altra, con il risultato di aumentare ancora ulteriormente la massa di profughi che già stava crescendo e che premeva, o si era già spostata nei territori vicino o si stava spostando verso l'Europa, cercando ovviamente scampo da questa guerra che sembrava non avere mai fine. Questa situazione di continui assedi da parte delle forze serbe alla Bosnia si può essere rappresentata in maniera perfetta da due assedi in particolari, l'assedio della capitale, cioè Sarajevo, e l'assedio della città di Srebrenica, di cui in parte abbiamo già parlato nella scorsa puntata. Nonostante questi assedi sulla carta fossero ovviamente favorevoli ai serbi che mantenevano il controllo delle colline intorno alla città, in realtà ben presto divennero ciò che spostò l'opinione pubblica occidentale tra deciso non interventismo diretto alla volontà invece di intervenire direttamente a favore proprio dei bosniaci, e la causa furono una serie di massacri. Sarajevo, assediata fin dal 1992, era, come si diceva all'epoca, una città martirizzata, letteralmente martirizzata dalle formazioni serbe che dalle colline continuamente bombardavano la città, senza preoccuparsi che quello che stavano colpendo era un obiettivo militare o piuttosto era un obiettivo civile. Con le forze dell'ONU che, con il mandato di non intervento, non riuscivano mai ad intervenire su quello che stava succedendo perché molto spesso queste postazioni di artiglieria venivano poi spostate di volta in volta impedendo un intervento rapido. Ciò che farà cambiare le carte in tavola nel 1994 sarà il massacro, il primo massacro purtroppo, nel mercato di Marcale, un mercato che si teneva proprio a Sarajevo e che in giorno di mercato sarà colpito da un bombardamento, con un risultato di quasi 70 morti e quasi 120 feriti. Un massacro che rimbalzò sui telegiornali di tutta Europa e spinse alcuni stati europei ad appoggiare l'idea di un maggiore intervento statunitense. Un maggiore intervento che si trabutò nella possibilità da parte delle forze delle Nazioni Unite in campo di richiedere l'intervento degli aerei della Nato per distruggere postazioni di artiglieria intorno a Sarajevo che avessero iniziato a colpire. Gli Stati Uniti avrebbero voluto un'azione preventiva ma intanto gli europei avevano accettato questa forma di intervento tardivo che se da una parte non permetteva di salvare Sarajevo, almeno fino a quel momento, in qualche modo iniziava a schierare le forze occidentali contro quelle serbe. L'altra operazione che sancirà il cambio della guerra sarà, come dicevo prima, l'assedio di Srebrenica. Anche Srebrenica, esattamente come Sarajevo, era sotto assedio dal 1992. La città si trovava all'interno di una zona abitata principalmente da Bosniacchi, che però si era trovata ad essere occupata dalle forze serbe, le quali avevano sostanzialmente suotato i vicini villaggi, trasformato la popolazione in profuga che era stata poi spinta all'interno della città. Qui si erano andate a installare tutta una serie di milizie bosniacche, le quali avevano reso impossibile ai serbi riconquistare la città e per questo i serbi ci l'avevano circondata e l'avevano messa sotto assedio. In realtà la città divenne ben presto uno di quei paradisi, tra virgolette, zone sicure organizzate dalle Nazioni Unite, ma si rivelò ben presto tutt'altro che un paradiso, perché nonostante le Nazioni Unite avessero mandato un proprio contingente, un contingente olandese, ufficialmente a difendere la città, in questo modo a impedire ulteriori scontri, in realtà questo contingente non riuscì a fare molto. Negli accordi che creavano proprio Sebrenica come una città franca al di fuori della guerra, sulla carta le Nazioni Unite e gli Irlandesi si erano impegnati a smilitarizzare completamente l'area, ma non riuscirono a farlo realmente, con il risultato che le milizie bosniacche, partendo da Sebrenica, molto spesso attaccavano, talvolta semplicemente per trovare rifornimenti, cibo per una città che rimaneva bloccata e sotto assedio, attaccavano i vicini villaggi serbi, provocando tutta una serie di morti per poi rifugiarsi nuovamente all'interno della città. E ovviamente i serbi rispondevano alla cosa facendo delle puntate verso il territorio di Sebrenica e a loro volta vendicandosi con tutta un'altra serie di violenze. A far crollare definitivamente questa situazione nel luglio del 1995 sarà un'offensiva serba guidata direttamente da Ratko Mladic. Mladic per quello che avvenne a Sebrenica nel luglio del 1995 sarà accusato, in realtà non solo per questo ma anche per tutta un'altra serie di avvenimenti, sarà accusato di crimini. contro l'umanità. Ma sarà lo stesso Mladic a dire apertamente che anche i dirigenti della Repubblica Serbska, a cominciare dal suo presidente, sapevano assolutamente tutto quello che stava avvenendo e sarà proprio anche da queste dichiarazioni che molti altri dirigenti saranno poi quantomeno imputati dai tribunali internazionali. Mladic con le sue truppe riuscirà molto facilmente a travolgere le forze bosniache. Queste verranno attirate fuori dalla città, battute, costrette a fuggire all'interno di Sebrenica, scatenando letteralmente il panico tra la popolazione bosniacca che non sapendo dove ritirarsi, perché completamente circondati dai serbi, si rifugierà proprio nella vicina base olandese, con le truppe olandesi che inizialmente le accoglieranno cercando in questo modo di dar loro salvezza. Le truppe serbe, però, si rifiuteranno di fermarsi. Raggiungeranno le forze olandesi, che erano oggettivamente molto inferiori in numero e che avevano inizialmente cercato di attivare il sistema aereo per cercare di fermare i serbi, il sistema aereo che però non era riuscito a causa del maltempo a far più di tanto, e quando i serbi si presentarono davanti ai cancei della loro base, accettarono di cedere, è brutto questo termine per delle persone umane, ma non trovo niente di meglio, di cedere loro proprio la popolazione bosniaca, che sarà costretta a lasciare la base insieme ai serbi con la promessa da parte serba che sarebbero semplicemente stati accompagnati verso le zone bosniacche. Le cose ovviamente non andarono così. Dall'11 luglio 1995 e per dieci giorni i serbi fecero letteralmente quello che volevano della popolazione di Sebrenica. La popolazione, che fosse combattente o che non lo fosse, sarà separata, segregata, violentata, stuprata, costretta alle peggiori atrocità, e alla fine più di 8.000 di loro saranno letteralmente giustiziati. Più di 8.000 persone saranno separati dalle loro famiglie, quasi tutti principalmente uomini adulti, ma purtroppo anche tanti uomini bambini, saranno separati dalle donne e dai vecchi e uccisi uno dopo l'altro. 8.000 morti. Un massacro senza precedenti, i cui numeri verranno poi scoperti di lì a qualche mese, quando si andrà a scavare nelle fosse comuni che erano state create dai serbi e si tirerà fuori uno dopo l'altro i corpi. I sopravvissuti, le sopravvissute principalmente, parleranno di tantissimi stupri, tantissime violenze, parleranno di come le truppe serbe, principalmente forze paramilitari, fossero quasi si divertissero per quel massacro incredibile. Quando i serbi, dopo dieci giorni, si ritirarono dalla città, scese un silenzio di tomba. In quegli stessi giorni, però, le cose per i serbi iniziano ad andare molto male. La guerra in Croazia stava terminando. Le forze croate, questa volta veramente in sincronia con quelle bosniache, lanciarono tutta una serie di offensive, sia sul territorio croato che sul territorio bosniaco, che molto rapidamente permisero alle forze alleate di riconquistare buona parte del territorio che era stato strappato dai serbi. Offensive che espandettero il territorio controllato dai bosniacchi e, dall'altra parte, come abbiamo raccontato due puntate fa, permisero ai croati di riconquistare tutto il territorio della ex Repubblica Croata. Ovviamente, perché purtroppo è quello che succede in questi casi, costringendo poi i serbi che si erano distanziati o che magari vivevano già veramente lì da moltissimi anni ad abbandonare le loro case e riversarsi nei territori della Serbia o della Repubblica Serbska. Di fronte a questo crollo del fronte, i serbi cercarono di rispondere, aumentando le violenze, soprattutto su Sarajevo. Tanto che ci sarà un secondo massacro del mercato, nel stesso posto, questa volta fortunatamente con qualche morto in meno, che spingerà definitivamente la Nato per un interventismo. Tanto che nei giorni successivi la Nato attaccherà e bombarderà, distruggendole. In circa una settimana la maggior parte delle postazioni di artiglieria serbe intorno a Sarajevo, con il risultato che i serbi saranno poi costretti, alla fine di agosto del 1995, ad abbandonare la città, ritirandosi verso i loro territori. Finalmente si giunse ad un cessato il fuoco. Un cessato il fuoco che ovviamente non pose fine immediatamente alle violenze che continuarono, ma che in qualche modo permise alle varie delegazioni di cercare una soluzione politica. Una soluzione politica che il 21 novembre 1995 porterà agli accordi di Dayton. Accordi che saranno poi sanciti da una pace firmata a Parigi di lì a qualche giorno, che a tutti gli effetti posero fine, almeno per quel momento, alle guerre jugoslave. Ovviamente in quegli accordi di Dayton rientravano tutta una serie di decisioni, tra cui quelle relative alla Croazia, al riconoscimento tra la Serbia e la Croazia nei rispettivi territori, ma anche una nuova organizzazione per la Bosnia. La Bosnia oggi è uno stato unito dal punto di vista dei confini, ma diviso al suo interno sostanzialmente in due grosse divisioni. Una parte serba della Bosnia, quella che appunto un tempo era la Repubblica Serbska, e la parte invece della Bosnia-Herzegovina, abitata da bosniacchi e croati. Le tre etnie esprimono a turno il presidente che governa tutto il paese. Un tentativo in qualche modo di ristabilire una situazione che alcuni avrebbero voluto probabilmente già dall'inizio, ma per la quale ci sono voluti molti, molti anni di guerra. In questa trattazione io ho parlato solo degli eventi principali, ma purtroppo ci sono una marea di eventi che potremmo definire secondari, almeno sulla gestione dell'intera guerra, ma che in realtà ci parlano di continui massacri, spostamenti di popolazione, violenze. Si stima che alla fine, solo nei combattimenti, solo nei conflitti, possono essere morti quasi centomila bosniaci, di qualunque etnia, serbi, bosniacchi o croati, a cui vanno aggiunti tutti quelli che hanno dovuto lasciare il loro paese, tutti quelli che sono morti di fame, di malattie, bambini che non avevano niente di cui mangiare, insomma tutto quell'orrore che abbiamo visto ai telegiornali all'inizio degli anni 90. Tutto quell'orrore aveva smosso il mondo, come vi ripeto da qualche puntata, un orrore che aveva dimostrato come in quel caso le Nazioni Unite non fossero in grado di intervenire direttamente. E sarà proprio quella sensazione quasi di incapacità che forse sotto certi aspetti spiega il perché la successiva guerra in Jugoslavia, di cui parleremo nella prossima puntata, quella in Kosovo, vedrà un intervento completamente diverso, non da parte delle Nazioni Unite in questo caso, ma da parte della Nato, ma ne parleremo nella prossima puntata. Io vi posso solo invitare ad approfondire questi argomenti. Sembrano lontani, sembrano lontani nel tempo, sembrano lontani nello spazio, in realtà sono avvenuti 25, 27, 28, 30 anni fa e sono avvenuti letteralmente dall'altra parte dell'Adriatico rispetto a noi. Quindi approfonditeli perché mostra come certi pericoli, pericoli degli ultranazionalismi, i pericoli della guerra, non siano poi così lontano da noi come possiamo pensare. Spero in qualche modo di avervi dato intanto un quadro da cui partire, di aver magari risposto a qualche domanda e di aver stimolato la vostra curiosità. Quindi, se volete riascoltare questa pillola o le altre di questa serie, le trovate qua su YouTube, in descrizione c'è la playlist o le trovate sul nostro podcast, anche quello in descrizione. Se volete consigliarmi o scrivere a voi altre pillole, ci sono i nostri social, Facebook, Instagram, Telegram, dove c'è ovviamente una grossa comunità per parlare in storia, non ci sono solo io, la mail ovviamente e per il resto. Io vi ricordo di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche, storie incredibili che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. E ogni tanto, come in questo caso, queste storie sono veramente degli incubi. Ad ogni modo, se volete scoprire qualcuna altra di queste storie, qui a fianco c'è l'elenco delle pillole, uscite fino adesso. Noi ci vediamo presto con un nuovo pillola di storia, ci vediamo settimana prossima per andare avanti a raccontare la storia dei Balcani. A presto, ciao ciao!